In questa puntata parleremo di giochi datati e un gioco che non mi è assolutamente piaciuto. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi! Noi siamo i Giullari, vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay, che è online anche grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. Se anche voi volete darci una mano a continuare a crescere, potete cliccare qua in alto tra le schede oppure nel primo link che trovate sotto in descrizione. Raggiungerete così la nostra pagina e scoprirete quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso. E ne approfittiamo per salutare e ringraziare il nostro nuovo Giullare d'Oro, Cristian. Questa settimana i titoli diversi a cui abbiamo giocato sono stati 9, ma di Trismegistus, Cacao, Kaleidos e Claim ve ne abbiamo già parlato. Quindi partiamo subito col primo titolo giocato nella settimana che per noi è appena trascorso, ma in realtà è già passato di più per voi che lo state vedendo in questo momento, ma chi se ne frega, è stato Welcome To, con l'espansione dedicata ad Halloween. Questa espansione è assieme all'espansione Luci Natalizia di cui già avevamo parlato, ma di questa di Halloween ancora non l'avevamo affrontata e visto il periodo così di Halloween, non è vero, ma avevamo voglia di giocare a Welcome To e abbiamo detto, vabbè proviamo anche questa nuova espansione, così le abbiamo provate tutte quelle che abbiamo. Non è che giochi a un gioco in base alla stagione o alla festività. Come no. In Welcome To Halloween si giocherà sempre seguendo le normali regole del gioco, quindi rivelando carte da tre mazzetti differenti. Questi mazzetti ci diranno dei numeri che noi possiamo scrivere su una casa delle nostre tre vie e associata ci sarà anche un'azione speciale che ci permetterà o di cambiare il valore del numero oppure di ottenere dei bonus per fare punti a fine partita. In Halloween noi aggiungiamo appunto una carta obiettivo legata a questa espansione che avrà a che fare sia con i dolcetti che con i fantasmini e quando noi segniamo un numero in una casa che ha su di sé un dolcetto o un fantasmino o entrambi o entrambi, scegliamo uno dei due bonus e il primo giocatore che avrà raccolto 4 oppure 6 oppure 8 dolcetti o fantasmini avrà diritto ad avere dei bonus che gli altri giocatori non potranno più prendere quindi c'è una corsa diciamo a completare queste case e cercando anche sempre poi di ottimizzare chiaramente il tutto per fare tutti gli altri punti del gioco che ci sono. Come già tutte quante le altre espansioni questa abbiamo notato che anche in due giocatori comunque funziona bene si integra, si interseca bene con il gioco base probabilmente in più giocatori la corsa ai dolcetti e i fantasmini forse la senti ancora di più però anche in due comunque ha funzionato proprio bene è molto bella perché comunque appunto come dicevo si integra bene non stravolge il gioco aggiunge una, due regolettine in più che però sono molto molto semplici da introdurre e quindi se come noi avete fatto tantissime partite di Welcome To tutte le espansioni finora le abbiamo sempre trovate piacevoli proprio perché aggiungono qualcosina senza farlo diventare troppo e senza stravolgere il gioco che il suo punto di forza è proprio la semplicità, l'immediatezza e le espansioni non lo appesantiscono e quindi anche questa Halloween molto molto piaciuta. Sì, unico appunto a Welcome To ma per un difetto di carta, non per del gioco e che con le matite da disegno normali non si riesce a vedere niente di quello che scrivi quindi munitevi di penna o pennarelli e so che a qualcuno no, penna no, non scrivere con la matita perché per cancele con la matita proprio non si vede. Abbiamo poi giocato a Yeti titolo di qualche anno fa portato in Italia da DvGiochi gioco che in realtà si propone come gioco per bambini e famiglie che però a noi piace tantissimo ma proprio un sacco l'avevamo provato per la prima volta in qualche fiera forse al Torino Comics c'era piaciuto un casino infatti l'abbiamo recuperato l'abbiamo tenuto in collezione e lo giochiamo sempre molto molto volentieri. In Yeti già visivamente è bellissimo perché al centro del tabellone c'è questa montagna che gli scalatori devono scalare perché noi in Yeti dobbiamo riuscire a raggiungere lo Yeti per riuscire a fotografarlo. La meccanica è una mini mini gestione dadi come nello Yazzi o comunque come in molti altri giochi si lanciano dei dadi, se ne possono tenere da parte si possono rilanciare gli altri fino a tre volte. A ogni lancio di dadi noi saremo obbligati a tenere da parte almeno tutti i dadi di una tipologia e se escono i dadi con la neve allora quelli siamo obbligati a tenerli da parte. Con il cavale dobbiamo cercare di fare punti punti che saranno più alti se riusciamo a scalare la montagna grazie agli scerpa però poi alla fine di ogni round dobbiamo tornare al campo base che possiamo lasciarlo già in cima della montagna se abbiamo lanciato delle tende possiamo acquistare dei potenziamenti per il nostro equipaggiamento oppure spendere i soldi anche convertirli in punti che sono le foto che riusciamo a scattare all'Oieti e ogni volta che noi faremo punti che sono i passi la nostra pedina va avanza sul percorso cercando appunto di raggiungere l'Oieti che è una pedina più avanti sul percorso rispetto a noi. Benvenuti sull'Imanaya! È molto molto semplice perché il suo target è quello c'è un gioco per famiglie e bambini però è divertente funziona bene ed è stato sempre piacevole farci una partita ci piace, basta, stacce È al limone! Abbiamo poi giocato a Jumanji mio marito mi ha fatto questo regalo di compleanno e quindi il giorno del mio compleanno abbiamo finalmente tolto la polvere si dice così come fanno nel film che tolgono la polvere dalla scatola di Jumanji e lo abbiamo provato. Diciamo che prende molto quelli della nostra età e che hanno adorato e adorano il film di Jumanji versione però con Robin Williams non con The Rock The Rock ecco perché poi in realtà il gioco soprattutto giocato in due manca un po' di sostanza poi ci sono le carte che hanno la rima come nel film se finisci nella foresta devi tirare un 5 o un 8 se non far moresterai e quindi punta molto sull'amore che ognuno di noi prova verso questo film però purtroppo diciamo che potrebbe essere carino giocato magari con i bambini però non lo so Allora No Allora sulla scatola c'è scritto gioco dei 5 anni in su e a me sta bene perché è un tira e muovi come il gioco del Loca lanci il dado esce 4 avanzi di 4 e ci sono appunto due tipologie di caselle fondamentalmente e la 99 volte su 100 sarà giri una carta questa carta ha un simbolo tu devi tirare un altro dado velocemente mentre va la Crissidra cercando di avere quel simbolo se no starai fermo non potrai avanzare e questa carta va messa sul ok sul lettore vabbè c'è il coso degli interni no no volevo dire quello no volevo dire quello ah si che se non la risolvi la metti esatto si ok quello è per comunque dare una fine al gioco va bene no quello che è allora il gioco è del 95 in realtà stando a cosa dice Board Game Geek del 95 io avevo 10 anni mi sarei divertito giocando sto gioco il fatto è che però poi sia stato rieditato adesso ristampato rimesso sul mercato un paio d'anni fa chi lo guarda adesso non più chi ha 5-10 anni che non sa cosa sia Jumanji ok lo guarda che appunto chi all'epoca aveva 10 anni e adesso però c'è una 35 e io di 35 anni prendere questo prodotto solo perché mi ricorda Jumanji il film bello che avevo visto al cinema con mamma e papà poi però il gioco dentro non c'è per una persona che ha 30 anni e per la persona che ha 7-8 anni oggi il fatto è che quello sia Jumanji non vuol dire assolutamente nulla non ce la faccio troppi ricordi ci siamo poi sfidati a i buoni e i cattivi fantasmi titolo lunghissima un gioco per due giocatori dove ci sono appunto i fantasmi ognuno ognuno deve cercare di mangiare 4 fantasmi blu dell'altro giocatore cercando di non mangiare però i 4 fantasmi rossi perché? perché Alberto vedrà solo la faccia dei miei fantasmi e non vedrà il colore che hanno dietro il del mio e in più per vincere si deve anche o si può anche oltre a mangiare 4 fantasmi dell'avversario riuscire a uscire dal tabellone è un gioco di parecchio tempo fa di Alex Randolph e come tutti i suoi giochi è un gioco molto semplice nelle meccaniche ha pochissimi elementi però è strepitoso è veramente ben pensato hai questa scacchiera tu vedi i tuoi fantasmini 4 hanno un pallino blu nella schiena 4 un pallino rosso non sai che cosa c'è nella schiena degli altri tu sai solo che dovrai o cercare di uscire con un tuo blu o cercare di mangiare 4 blu dell'altro o tu vinci anche se l'altro ti mangia i tuoi 4 rossi e quindi ci sono molte situazioni in cui tu magari piazzi il tuo fantasmino davanti a un fantasmino dell'altro non provo da essere se vuoi mangialo però è rosso però è blu però boh non lo so e ci si può muovere solo in avanti ortogonalmente in lato oh yeah alle prime mosse boh ogni tanto mangi qualcosa ah si è blu ah anche questo è blu poi magari ne mangi 3 rossi di fila e dici oh mio dio adesso cosa faccio mangio non mangio ma se non mangio ed è blu quello tra un po' riesce ad uscire cosa faccio ed è molto bella questa questa difficoltà di capire l'altro devi saper bluffare un po' e cercare di capire un po' l'altro se sta cercando di proteggere un suo blu oppure se lo sta mandando lo sbaraglio oppure se sta cercando di fregarti facendoti mangiare un suo rosso le partite sono velocissime ma ne fai veramente un sacco perché poi i fantasmi all'inizio ognuno se li posiziona cioè non c'è una posizione stabilita in cui mettere i fantasmi te li metti come vuoi se no saprai dove sono e il gioco non ci sarebbe se tipo io so che davanti c'è i blu dietro c'è i rossi ma si non è che dici che ne so li metti devi metterli così alternati o fare eh perché se no io saprei i tuoi dove sono c'è anche che è per dire che è molto variabile perché mettendoli appunto dove vuoi perché se no l'altro scopera dove li metti la valutabilità è altissima questo lo tagli ma che faccia hai fatto? la figura ma che faccia hai fatto? ti faccio fatto questo lo tagli perché mi metti il ridicolo oh no oh smettila abbiamo poi concluso la nostra settimana ludica con Clans anche questo è un gioco di maggioranze astrattissimo in realtà di Leo Colovini che anche questo ha già una ventina d'anni sulle spalle 18 anni sulle spalle ma che a me piace un sacco titolo che si trovava a un certo punto super scontato avevano pagato tipo 5 euro ma è un gioiellino veramente non sappiamo se si trova ancora oppure se quegli sconti fogli a cui l'avevamo preso noi qualche anno fa era perché si stavano svuotando i magliettini ma perché se un astratto ci piace? perché questo qua è un gioco di maggioranze dove però c'è anche qua una componente di bluff deduzione in quanto noi siamo un colore di capannine ci saranno sempre 5 capannine capannine in 5 colori sul tabellone ogni giocatore sarà uno di questi colori però gli altri giocatori non sanno se io sono il blu, il nero, il verde, il rosso, il giallo noi al nostro turno abbiamo solo un movimento da fare in cui prendiamo uno o più capannine da una regione le spostiamo verso una regione adiacente le capannine non potranno mai più tornare in regioni che in questo modo sono rimaste vuote e nel momento in cui una regione è completamente isolata si fanno i punti e tutti i colori di capannine che sono all'interno di quella regione fanno punti pari a quante capannine ci sono poi ci sono un altro paio di regolette che se il territorio è determinato se è bosco ti dà più punti se invece sei un territorio ostile invece te li toglie quindi c'è anche da valutare quello allora io sono partito dicendo che ero il nero ho detto io inizio a far fare subito un sacco di punti al nero così Vale penserà che io stia bluffando e io non sia il nero quando in realtà io invece sono proprio il nero sei scaltro come una faina ma Vale ha mangiato la foglia ha capito che io ero proprio il nero e infatti il nero da lì in avanti ha faticato tantissimo e io non avevo invece minimamente capito che lei fosse il blu pensavo fosse il giallo cercavo di ostacolare il giallo e il blu ha stravinto e anche perché se all'inizio comunque fai tutti i punti con il nero in questo caso poi le capannine nere a un certo punto finiscono si certo perché sono già state conteggiate si 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 chiare bravo ho sbagliato ho giocato male Vale ha avuto molta più strategia di me bravissima quando io perdo non mi errore finisce così la nostra settimana ludica vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di cacao quindi se ci volete vedere come si dice coltivare vendere cacao riguardate il gameplay e mercoledì è uscito il gameplay di no draw video che potete recuperare cliccando qua in alto tra le schede se riusciremo a metterle se ce ne ricorderemo vi ringraziamo quindi per essere stati con noi fino a questo momento vi ricordiamo che se vi piace quello che facciamo qua su youtube potete valutare l'idea di cliccare qua in alto tra le schede oppure nel primo link che trovate sotto in descrizione per raggiungere la nostra pagina Patreon dove scoprirete quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso se sceglierete di supportarci e per supportarci potete anche iscrivervi al canale attivare la campanella lasciarci un like commentare e condividere questo video con tutti quanti i vostri amici e mi raccomando seguiteci anche su tutti gli altri nostri social ovvero Facebook, Instagram, Twitch e il canale Telegram lasciate anche un commento per ringraziare il nostro fantastico regista Damiano senza il quale niente di tutto questo sarebbe possibile e infine vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi grazie a tutti Grazie a tutti.